Ciao a tutti ragazze e ragazze bentornati sul mio canale ultimamente penserete che sono veramente impazzita ma questo è un video in collaborazione con le mie amiche e le ragazze del gruppo di whatsapp di cui faccio parte Fortuna, Veronica, Angie, Nadia e Giorgia comunque vi ricordo sempre che sotto nell'info box vi lascerò i link di tutti i loro canali e la volta scorsa avevamo fatto un video su un personaggio della Disney e io come una fessa ho scelto la sirenetta e eccomi qua adesso a fare la cattiva della sirenetta e quindi Ursula sta parrucca intanto scende e quindi niente ahimè non è semplicissimo andare a ricreare il make up di Ursula comunque questa è la mia proposta poi semmai qui vi metterò da qualche parte anche il link della sirenetta per chi non l'ha visto andatela a vedere perché è stato carinissimo anche quello ecco qua la cattiva della sirenetta ho disegnato qui sul corpo le zampe della piovra perché poi è una piovra rossetto rosso per le sue labbra perché lei così le ha e sulla palpebra mobile ho messo l'azzurro del mare e l'ho sfumato con il rosa comunque questa è la mia proposta e andate a vedere anche i video delle mie amiche perché anche loro avranno dovuto fare le cattive dei loro personaggi che hanno scelto della Disney mi sono divertita come sempre e vi ricordo come al solito che alla fine vi metterò anche le foto del make up e niente adesso vi lascio il tutorial spero che vi piaccia quello che ho combinato e se vi va spolliciate un bacio, grazie e fortuna per quest'idea e un bacione a tutte le mie amiche ciao e al prossimo video vedo a chi vorrà ahahahah ahahahah Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.